Senta Franceschini ha detto è ora che Speranza e Bersani tornino nel PD, che ne pensa? Ma penso che fosse rivolta al PD. Cioè il PD che deve ritornare nel PD? No, no, penso che fosse rivolta al PD, come dire, guardate ragazzi che fosse... perché naturalmente noi siamo insieme dappertutto, anche queste campagne elettorali, per amor di Dio, ma sempre con la speranza di dare un contributo. Primo a tenere assieme questo campo progressista, secondo a cercare che l'asse della COS si sposti un po' verso il lavoro e i temi sociali. Cioè io dico questo anche al PD, ho fatto una chiacchiera, l'ultima chiacchiera vera che feci con Guglielmo Epifani, prima che purtroppo se ne andasse, eravamo lì in aula e mi diceva lui, ma com'è possibile che gente come me e te sia all'estrema sinistra dell'emiciclo? Perché noi siamo proprio all'estrema sinistra, che di là ci sono i commessi proprio, no? E io gli ho detto, Guglielmo, è perché tutti gli altri si sono spostati in là. Allora, a me va benissimo entrare nel PD, va tutto quello che si vuole, però ci mettiamo dentro un po' di senso? C'è un percorso politico? C'è la possibilità di discutere? Perché io sono uscito perché mi hanno buttato fuori, eh? Mi hanno buttato fuori, la sostanza è questa. Perché non c'era più la possibilità di discutere? Però era un'altra fase, c'era un signore... Assolutamente, era un'altra fase. Oggi è un'altra fase, assolutamente. Assolutamente. Guardi, Bersani, la porto un momento a Bologna. L'Eta proprio per me è... Le farà piacere, la porto a Bologna. Perché a Bologna succede che Prodi dice, non c'è più il campo largo, ma c'è un campo senza recinti, che va ridisegnato. E quindi le chiedo qual è questo campo da ridisegnare, ma anche a Bologna, sempre a Bologna, c'è Ellie Schlein, che è una giovane, la vicepresidente della regione, che è molto legata a Romano Prodi e che però sta disegnando a sua volta un campo a sinistra del PD, che ha chiamato Visione Comune. Abbiamo visto Fabrizio Barca, un'altra serie di persone. Allora, che cosa succede? Visione Comune è a sinistra del PD, ma è dentro il recinto, è fuori dal recinto? Lei, rispetto a Prodi e Schlein, dove si colloca? Il recinto è fatto dalla gente che si sente progressista, punto. E quindi bisogna che ci sia una chiamata, semplicemente, di tutta questa gente, come nei casi migliori, si è visto nelle amministrative, dove i gusti migliori che ci siano cavati, da Verona a Parma, a Padova, anche a Piacenza, è nata dal fatto che quel popolo progressista, comunque catalogato, ha percepito una battaglia comune su un programma, su dei temi sociali prevalentemente, con la capacità di innovare, di mettere anche qualche figura, diciamo così. Quindi, la ricetta vera è una chiamata sulla base di una, diciamo, un programma fondamentale, un manifesto fondamentale, che parte dal tema del lavoro e dal tema sociale. Lavoro vuol dire, il lavoro nuovo lo farai solo nella battaglia ambientale e della transizione. Dopodiché bisogna cambiare le regole del lavoro. Ecco, però la cosa...